Entusiasmo ritrovato, ambizioni pure, tutta un'altra storia rispetto a quando il presidente Giuseppe Malder a tempo fa aveva annunciato di voler smettere con il calcio. Deluso dal mancato approdo in Serie D, il Corato invece sarà regolarmente iscritto al prossimo campionato di eccellenza. Siamo ripartiti con il solito entusiasmo, poi quando si ritorna sul campo, gioco forza, l'entusiasmo ritorna. Speriamo che sia una stagione completamente diversa da quello dello scorso anno, se non altro dal punto di vista della continuità che il Covid non riagredisca di nuovo le città, la nazione. Quindi in qualche modo permette e consente lo svolgimento regolare dell'attività sportiva. Noi ce l'auguriamo tutto, ma non solo per l'attività sportiva, ma proprio per il vivere comune, per il vivere in maniera seria. Siamo ripartiti con il solito entusiasmo. Sono arrivati elementi importanti anche da categoria superiore su tutti. Daiello e Grieco in difesa, Rescio a centrocampo e Pignatario in attacco, il neotecnico Giuseppe Scaringella ha un ritorno in norover del suo. Potrà contare pure su diversi calciatori confermati a Godirin, Petitti, Camasta, Quacquarelli, Addario Quarta e Vicedomini. L'ultimo innesto in ordine di tempo invece è l'esterno offensivo Mattia Negro, reduce dall'esperienza a Trani con la Vigor. Una cosa è certa, il Corato vuole essere protagonista, proverà a giocarsela per la vittoria finale dell'Eccellenza di Puglia. Di sicuro farà un campionato da protagonista, sarebbe sciocco dire il contrario. Però io penso, e questa è una valutazione che stavo facendo ieri anche con gli amici e gli altri dirigenti, comunque noi dobbiamo capitalizzare anche l'esperienza dello scorso anno. Cioè nel senso che noi abbiamo una struttura che è pressoché identica a quella dello scorso anno e quindi va capitalizzata. Cioè nel senso che Ruvo deve diventare, almeno fino a quando non abbiamo il campo, sempre più il nostro fortino. Abbiamo una situazione societaria completamente confermata in cui andiamo tutti d'accordo, c'è una vision che è identica per tutti. Quindi tutte queste cose devono essere l'arma in più e con la speranza che quest'anno non ci fermi manco il Covid. Perché io sono sempre dell'idea che senza Covid il Corato in un modo o nell'altro in Serie D sarebbe salito. Però con il sé non si fa la storia, quindi però dobbiamo ripartire necessariamente da una signora stagione che è stata quella dello scorso anno, dove abbiamo vinto una Coppa, c'è una Coppa da difendere, possibilmente dobbiamo cercare di ritornare dove ci siamo fermati lo scorso anno. C'è un campionato in cui poi si possono vincere, si possono non vincere, ci sono gli avversari. Il Corato non è forse questa una squadra favorita, ci sono altre signore squadre, bisogna vedere il format. Sarà un bellissimo campionato agguerrito dove il Corato farà sicuramente la sua signora figura.